buongiorno maresciallo buongiorno comodo comodo novità nessuna è solo arrivata la chiamata di un tizio che chiedeva di lei ho lasciato un appunto sulla scrivania anche oggi giornata movimentata allora maresciallo lei crede ai giganti rattura di quattro posto l'illustrazione della spalla sinistra ed escoriazioni diffuse per tutto il sabato mentre stavamo passeggiando mio nipote stava scansando una macchia di sommacco cosa ti vedo in mezzo un sacco di plastica si di plastica nera quella che si usa per i sacchetti dell'immondizia ma sa maresciallo vista la distanza dalla strada non può essere che sia stato buttato lì mi è venuto in mente che è stato nascosto apposta a giudicare il modo in cui era chiuso credo che all'interno ci sia qualcosa che possa interessarle cosa e che ne so io mica potevo aprirlo senza prima parlargliene quindi professore cosa vuole che io faccio ora che sabato prossimo sia lei ad accompagnarmi se c'è lei il sacco lo posso aprire grazie a tutti grazie a tutti